Devi sapere Luca, io ti do del tu durante la chiacchierata, che tu sei stato l'ispiratore di questo mio podcast, perché parlando di te e con te, del fatto che tu prima di essere quello che sei, cioè il presidente della regione Veneto, facevi il PR in discoteca, mi è venuta in mente l'idea di lato D, cioè di raccontare un lato che è insospettabile di personaggi famosi. Quindi grazie. No, grazie a te. Per ispirazione. Per ispirazione. Allora, facciamo un piccolo intro. Luca Zaia, nato a Conegliano il 27 marzo del 1968, è un politico italiano, questo dice Wikipedia di lei, presidente. Presidente della regione Veneto dal 7 aprile 2010. Si è laureato in scienze della produzione animale presso la facoltà di Agrari all'Università degli Studi di Udile, nel 1993 viene eletto consigliere comunale a Godega di Sant'Urbano. Qua c'è una discoteca a Godega di Sant'Urbano. Ah sì, c'è anche lavorato. Perché io mi ricordo i posti solo dove ci sono le discoteche, pensa come sono messi. Nel 1995 entra nel consiglio provinciale di Treviso, ricoprendo anche la carica di assessore all'agricoltura. Nel 1998 è il più giovane presidente della provincia a Treviso, eletto in Italia avendo appena compiuto 30 anni. Nel 2005 diventa vicepresidente della regione Veneto, nel 2008 diventa ministro. Eppure si manteneva facendo il PR in discoteca. Benvenuto Luca Zaia, presidente della regione Veneto. Grazie, grazie per l'invito. Ciao Luca, grazie a te. Ciao. Grazie che ci stai dedicando del tempo preziosissimo, perché so che sei sempre... Ti abbiamo rincorso tanto Luca, eh? No, guarda, io mi scuso, ma ti devo dire la verità, avrei voluto essere lì in presenza, perché così si fa. Però questo è un periodo di caos. Cioè, peraltro, tu sai, noi siamo quelli delle Olimpiadi, quindi siamo molto attivi in questo periodo. No, vabbè, comunque veramente grazie. Per me è un onore, perché comunque per me è stato un mito albertino, insomma. Cioè i piatti, i mix di albertino, insomma. E poi abbiamo, ci siamo incrociati in discoteca, perché tu giustamente dici, Godega di Sant'Urbano e il Manhattan, e tu al Manhattan ci venivi. Ecco, ecco. Radio DJ era di casa, te lo ricordi sicuramente. Certo, me lo ricordo. Sai che cosa, io ovviamente non mi ricordavo di te in quella veste, ma qualche mese fa, te lo ricorderai, è venuta fuori sui solci una foto di me e te insieme. Mia e tua, dove io avevo i capelli lunghi e tu eri un ragazzo che faceva il PR, insomma. Sì, sì, eravamo un po' paninari in quegli anni. Eh sì, come look sì, come look sì. Che ricordo hai di quel periodo, quando facevi il PR in discoteca? Ma sai, quella foto lì è del 1987. 87? A 86-87. Erano gli anni di DJ television, erano gli anni di, insomma, dei fiorire di radio DJ. Sì, della nostra esplosione, sì. Tu eri, assieme al tuo fratello, un frontman di radio DJ, poi c'era Fargetta, Molella. Mi ricordo che Amadeus c'era, Amadeus è venuto da noi, Fiorello. Sì, sì. E Zeppa, che era DJ television, che era Pieraccioni, insomma, tutta la squadra, insomma, c'eravate. Ma tu, insomma, eri il mago dei piatti, insomma, eri quello dei mix. Ero abbastanza sì. Stavo cominciando lì, stavamo per esplodere, poi negli anni 90 siamo esplosi definitivamente. Ma parliamo di te, come PR, invece, di questo tuo, di questo mondo. Perché comunque, Luca, delle discoteche, tu lo sai meglio di me, si parla sempre male. E tu, invece, quando ti ricordano che hai lavorato, hai cominciato lì, lo dici con orgoglio. Questa è una cosa sorprendente. Sì, guarda, ma ti dirò, c'è una bella frase che mi disse una volta Marta Marzotto. Mi diceva, sai, avanzi di discoteca. Noi siamo avanzi di discoteca. Ma l'ho detto, ovviamente, in maniera simpatica. Io ogni tanto, quando li trovo, gli avanzi di discoteca, che magari sono professori universitari, e un chirurgo, piuttosto che grandi imprenditori, sono tutti ragazzi che lavoravano con noi. Perché questa è la storia. Poi ti dirò che c'è questo rettaggio. Perché, guarda, io l'ho toccato da vicino quando sono diventato ministro. Uno dice, cavoli, diventi ministro, cioè si guarderanno il curriculum, vedono che sei laureato, che parli tre lingue. No, tutte le domande che mi hanno fatto quella giornata, il Quirinale, il giorno... Eh, ma è vero che hai lavorato in discoteca. Sembra quasi che sia un'onta, che sia un virus che non te lo togli più. Io invece sono orgoglioso perché a me la discoteca ha dato modo di pagarmi una laurea. Io mi sono laureato in discoteca, studiando e lavorando. Ed era l'occasione. Ovviamente erano sacrifici perché si lavorava di notte e il fine settimana in particolar modo. E quindi quando gli altri andavano magari a divertirsi, tu dovevi andare in discoteca. Poi ti ricordi che le discoteche in quegli anni aprivano alle nove di sera e chiudevano all'una? Sì, sì. O alle due, diciamo alle due, Massimo. Eh, erano gli anni del dibattito sulle discoteche, quindi noi paghiamo un po' quel rettaggio culturale di vedere sempre discoteca, droga e malaffare, ma non era così. Non era così. C'è anche chi ci ha trovato un'occupazione, una professione, una passione e poi una palestra nel tuo caso. Ma scusa, perché la discoteca e non un altro luogo? C'era anche una passione per la musica in te o c'era la visione che quello poteva essere un modo più imprenditoriale che da appassionato di musica o di divertimento? Sì, però io l'ho visto subito come un business. Io ho iniziato oggettivamente organizzando feste e ho fatto, io ho esordito organizzando la festa storica della mia scuola che ogni anno si faceva e si fa, che è il baccanale, già il nome da una dimensione, io avevo fatto la scuola enologica conegliano, quindi era fondamentalmente il ritrovo di fino all'anno scolastico. Quell'anno la feci io introducendo degli elementi nuovi, ad esempio io ho inventato l'invito cartaceo, allora non esisteva e lo feci grande come i saldi, sai che andavi al mercato rionale e te li mettevano sul parabrezza? Io feci la stessa roba e riempì il locale, arrivarono circa 2000 persone. Come diffondevi questi inviti? Porta a porta? A mano. A mano i ragazzi nelle scuole e feci il gemellaggio scuola enologica e istituto turistico e quindi si fece per la prima volta un gemellaggio importante da due scuole importanti di Conegliano. Da lì iniziai, poi iniziai a organizzare feste e ne facevo molte, erano super frequentate, erano sicuramente andavano di moda, erano glamour, queste feste, sempre nei megalocali, a un certo punto i gestori mi hanno detto senti è meglio che ti diamo un fisso e lavori per noi perché sennò così non può funzionare. Non era più conveniente darti una fee? Sì, a quel punto io ho iniziato, ho abbandonato l'organizzazione, quindi l'attività imprenditoriale definiamola così, che andava benissimo, ma molto bene, e ho fatto di necessità virtù perché avendo la stabilità di essere remunerato stabilmente mi permetteva di distrarmi di meno di studiare, cioè questo era. Però senti, se stai a casa e guarda la tv e non ti preoccupi mai di niente, poi hai solo la sfiga che ti casca il meteorito in testa perché altro non può succedere. No certo, ma chi erano i tuoi compagni? Perché ho letto che avevi degli amici che tra l'altro sono ancora i tuoi cari amici che sono cresciuti con te ed erano un po' il tuo gruppo di lavoro, no? Cosa fanno loro adesso? E come ti vedono ora? Ma guarda, uno fa l'interior designer, un altro fa l'imprenditore, un altro fa il commerciale. Ma sai, io frequento la gente di sempre, non è che ho cambiato le mie amicizie, per cui... Ma loro sono cambiati? Ma no, noi avanzi di discoteca abbiamo sempre... Guarda che, Luca, ti dico che la definizione corretta è avanzi di balera, perché fa il gioco di parole con la galera, non è avanzi di discoteca. Allora io dico di discoteca. No, noi che abbiamo... Cioè, siamo comunque una tribù, no? Cioè, poi ti riconosci perché comunque è vecchio... Cioè, non so, Berlusconi che diceva, ma io ho suonato nell'orchestrina nelle navi da crociera. E comunque fai parte di un giro, no? Che era il giro di Quelli della Notte. E c'è... C'è una canzone di Giovannotti, no? Che parla di Quelli della Notte. Che è un cameo di veramente di cosa era la notte. E quindi ti ritrovi... Io a volte trovo persone magari che non hanno lavorato con me, ma che sono quelli della notte e te lo ricordano subito. Cioè, sai, ci sono a volte i famosi club, no? I quali tu ti iscrivi. Questo è un club che non ha tessera, non ha niente, però ci riconosciamo subito. E quindi siete rimasti in buoni rapporti. Sì, assolutamente. Poi, sai, le discoteche stanno un po' scomparendo, perché qui da noi vedo che vengono demolite, macinate, il Manatta non esiste più, c'è anche un video tristissimo su YouTube. Sì, c'è una raccolta di discoteche, di foto di discoteche ormai fatiscenti, diciamo, che sono distrutte, ecco, che diventeranno forse centri commerciali. Beh, sì, però è triste. Guarda, io seguo anche sui social il gruppo di Jesolo, che parla di quelli della notte di Jesolo, e lì, ovviamente, ovvio, ci rendiamo conto anche che ha Marcord, però è storia, diciamo, è storia della nostra società, cioè è quello che eravamo noi. Per cui le discoteche, ti dico, con alcuni non ho lavorato, però c'è lì di incontro, c'è questa volontà di ricordarlo, questo è bello. Senti, Luca, quindi possiamo chiamarla quella del momento in cui facevi ripiare la lista Zaia, che suona molto da politico, se ci pensi. Ma no, guarda sì, vabbè, fra l'altro io ho la lista Zaia, no, ma sì, diciamo che allora non c'era neanche la lista perché la modalità delle liste è arrivata dopo, è arrivata negli anni 90, allora c'era l'organizzatore della festa e tu, diciamo, un po' liquidavi chi ti aveva dato una mano, ma non c'era ancora il tema del rientro, no, cioè il fatto di avere il biglietto di rientro e quindi avere la percentuale, però sì, diciamo, c'erano le feste Zaia più che la lista Zaia. Ma tu, ma da quanto tempo non torni in una discoteca, per esempio? Anche perché forse la tua figura pubblica magari te lo permette un po' meno, non solo il fatto che non hai tempo proprio materiale. Ma no, guarda, io faccio una vita normalissima, cioè nel senso che non ti dirò, discoteca, discoteca, allora la discoteca in funzione è da un po', discoteca per altri motivi, non so, magari organizzano cose private, eccetera, mi è capitato di andarci, non so, magari incontri che vengono organizzati, però ho sempre mantenuto un rapporto vivo, insomma, cioè noi abbiamo un gruppo che tu conoscerai, i veneranti che oggi hanno… Sì, certo, certo. Loro li sento, li frequento, stanno facendo belle iniziative per la sicurezza stradale, oggi la discoteca fa molta attività sociale, no? Magari negli anni degli anni 80, 90 un po' di meno, ma adesso sono sempre presenti anche con iniziative a fianco alle istituzioni e questo è bello, cioè, quindi… Molto bello. In questo senso ci sono stato anche un paio di settimane fa, insomma. Ok, perché comunque la tua figura può aiutare anche ad abbattere questo preconcetto sulla discoteca. Assolutamente sì. Senti, te li ricordi tutti i locali per cui hai lavorato, i nomi dei locali? Sì, me lo ricordo sì. Io ho iniziato al Manhattan di Coteca Sant'Urbana, dove abbiamo fatto quella foto, io e te. Che non c'è più, lui non c'è, questo non c'è più. No, purtroppo, guarda, una fitta al cuore, è stato macinato, letteralmente divorato, e quella era un'icona, un locale iconico, dove fra l'altro nasceva come Apollo 2000 e Apollo 2001, cioè era il club, diciamo, interrato Apollo 2000, dove si sono esibiti i gruppi più famosi a livello nazionale, che poi ha avuto gli onori della cronaca, ma era il nostro piper, diciamo, di questa zona. Quindi anche concerti, non solo discoteca. Poi, sì, poi è diventato Manhattan e quindi poi ho lavorato per il Diamantic. Sì. E sono stato a Gagliarine. A Gagliarine. A Gagliarine, poi al Colossal, che adesso si chiama Odissea. Ok. Nasceva come Colossal. Dei nostri amici venerandi. Ho lavorato al mare, all'Amadeus, al Desiree, insomma, ho fatto un po' di roba. Senti, invece, se io ti chiedessi un po' di titoli di canzoni di quel periodo, ti ricordi qualche flash, qualche ricordo di qualche brano in particolare, oppure è solo un lontano, vago, diciamo, il sound? No, me li ricordo, Albertino, guarda, io non sono mai stato, cioè, non facevo parte della sezione musica, no? Nel senso, c'era la sezione... Organizzazione. Organizzazione. Io sono stato un organizzatore e del resto è un mestiere che faccio anche adesso, metto insieme i fattori della produzione. Ma sai, allora, noi in quegli anni, tu te lo ricorderai, c'è, al di là dei tanti dischi, dei remix che facevi anche te, eccetera, però, insomma, adesso abbruccia, prima ovviamente, Black Box, è stato, è stato un pezzo che ha... Bellissimo, Ride on Time. Quante serate avete aperto con... poi c'era l'altro, io non so se il titolo fosse Found Love. Found Love, di Double D, bravo direi. Double D, me lo ricordo. E poi sai, noi siamo anche dell'invernata del Last Christmas, ricordiamoci che c'era questo pezzo che apriva le serate durante l'inverno, quindi George Michael, Last Christmas, questo è iconico come pezzo. E poi c'è un pezzo che va anche adesso, che peraltro è ancora in testa alle classifiche dopo 50 anni, è Cold Art, di Elton John, poi adesso c'è Remix con Due Diffa, che è Ah, mi piace il fatto... ma quindi oggi il presidente della Regione Veneto ha tempo di un pochettino di leggere... cioè tu avrai voglia di leggerezza perché avrai tutto il giorno rotture di palle, scusa se non uso eufemismo. Ma guarda, io tutte le mattine faccio un'ora di palestra, c'ho Spotify e quindi... A che ora ti svegli? A che ora ti svegli? Bah, guarda, se la domanda giusta per me sarebbe dire... sei riuscito a dormire? Nel senso che io soffro di sogno, ma io alle 4 e mezza, 5 sono già operativo. Hai ribaltato gli orari della discoteca, quindi? Prima andavi a letto alle 4 e mezza, 5, adesso ti svegli. Eh sì, però purtroppo anche prima con la discoteca io non dormivo fino alle 1, alle 2, tu fino a che ora dormivi quando andavi a letto? Ah, io da ragazzo dormivo tanto, tipo le 11, così, 10, 10, perché lavoravo sempre di notte, lavoravo... e quindi sai, avevo come un fuso orario sballato, poi facevo il programma al pomeriggio alle 2 e quindi questo mi permetteva di poter dormire un po', poi ultimamente ho cambiato un po' di orario. La luce la vedo tutta, diciamo, no? Quella del sole, dall'inizio alla fine. Quindi diciamo, io dico sempre, dormo di meno, ma vivo tanto di più. Ah, ok, ok. Senti, Luca, quindi se io organizzassi una festa, ti invitassi, tu verresti a trovarci? Sì, ci vengo, sì, ma figurati se non ci vengo. Ma non hai tempo. No, ci vengo, ci vengo. Lo troviamo? Lo troviamo. Potremmo fare un bel ritrovo di tutti gli avanzi? Sì, dovremmo fare una lunga lista, dovresti tornare a fare il fiera e fare una lista a questo punto. Ma guarda, riempiamo un padiglione della fiera, senza nessun problema. Potremmo fare una bella festa, beh, in occasione delle Olimpiadi Invernali, adesso quando è la data? Eh, il 2026, avremo tanto tempo per organizzare. Abbiamo tanto tempo, le cose potrebbero cambiare, visto che cambiano così velocemente. Senti, Luca, io ti ringrazio per averci dedicato un po' di tempo in queste tue giornate così sempre molto piene di cose importanti. Complimenti per la tua carriera. Grazie. A cosa puntiamo adesso? Quando uno è arrivato a essere presidente della regione? Ma sai, a comprarmi un cavallo. Ah sì? No, nel senso che è da novembre 2019 che io non ho più il cavallo. Io ho sempre avuto un cavallo. E quindi dico, guarda... Ma tu stai nella Val d'Obiadene, dove fanno il prosecco, giusto? Ah no? Io stavo a Conegliano, Conegliano, si fanno sempre il prosecco. Non è tanto distante, però. Però io ce l'ho sempre avuto il cavallo a casa e quindi dico, guarda, i miei grandi progetti sono comprarmi un cavallo. Ah, quindi forse rilassarsi un po', non hai... Ma poi dici così, ma io non ci credo tanto. Vabbè, insomma, staremmo a vedere. Io poi sono fatalista. Come c'è... Cioè, è giusto essere fatalisti. Uno non può programmarsi la vita, assolutamente. Cioè, bisogna essere fatalisti. Però avere degli obiettivi, sì, insomma, no? Sì, gli obiettivi sì, però non rovinarsi la vita e soprattutto prendersi poco sul serio. Perché vedo gente che veramente si prende troppo sul serio. Apprezzo molto, apprezzo molto. Grazie, Luca. Allora possiamo aggiornare la pagina di Wikipedia. Luca Zaia... Scusami, la differenza tra presidente e governatore. Perché ogni tanto qualcuno vi chiama governatore e altre volte invece la definizione giusta è presidente, giusto? Ma sì, giuridica sì. Dopodiché io penso che sia anche un mutuare dell'inglese, no? Perché il governor magari ha un'altra ricaduta. Cioè, non so, gli Stati Uniti hanno i governatori degli stati, no? E poi il presidente è il presidente degli Stati Uniti. Ma probabilmente è questo. Ma è una visione un po' più federalista, mettiamola così. Però, insomma, la figura giuridica è il presidente della regione. Luca Zaia, nato a Conegliano il 27 marzo 1968, è un politico italiano, presidente della regione EPR. Aggiorno io? Sì, vai, vai tranquillo. Ti ringrazio. Grazie, Luca. È stato bello. Grazie a te. Spero di poterti di nuovo abbracciare e fare una foto insieme fisicamente in presenza. C'è ancora il giubbotto, me lo porto. Quello l'altro l'ha fatto, è terribile.